Ciao ragazze, bentornate sul canale, finalmente riesco a registrare un video che vi ho promesso da un sacco di tempo come avrete detto dal titolo, ovviamente quello sui detergenti per l'igiene intima a confronto ve ne avevo parlato un po' di tempo fa e molte nei commenti mi avevano detto che vi avrebbe fatto piacere anche perché è una tipologia di prodotto particolare, nel senso che comunque riguarda una zona delicata quindi ci tengo a mostrarvi quelli che sto utilizzando io, sono tutti comunque con buon inci con cui mi sono trovata bene prima di iniziare comunque sulle labbra ho la bellissima pastello labbra di Neve Cosmetics nella colorazione Cappuccino che è questo nude bellissimo che a me piace tantissimo per tutti i giorni ma non solo allora iniziamo subito, i detergenti che vi mostrerò allora intanto vi volevo dire che voglio iniziare, cioè voglio fare questa tipologia di video un pochino più spesso perché secondo me sono molto utili per dare degli spunti quindi il primo che faccio appunto è sui detergenti intimi ne sto preparando un altro sui doccia shampoo quindi sui prodotti che vanno bene sia per corpo che capelli in vista anche magari dell'estate fatemi sapere qua sotto quale altra tipologia di prodotti vi piacerebbe vedere ad esempio shampoo, creme corpo, creme viso, insomma ditemi voi che poi io mi organizzo e piano piano ve li faccio allora i detergenti che vi mostro hanno delle caratteristiche in comune ecco quindi dopo non mi starò a ripetere intanto hanno tutti buoni inci, cioè sono tutti biologici a parte uno che non è certificato ma comunque un ottimo inci sono tutti low cost chi più chi meno ma sono low cost insomma stanno nei 5 euro ecco e sono bene o male tutti facilmente reperibili un po' da tutte allora iniziamo subito io vi faccio... in realtà non lo so perché non ho molto... vi volevo fare una sorta di classifica però di fatto ce ne sono alcuni che sono pari merito e mi piacciono tutti tanto inizio magari da quelli che mi stanno piacendo un pochino meno che stranamente sono quelli che invece piacciono di più a Giacomo allora uno è terminato ed è questo qua della censure allora mi piace di meno il rapporto agli altri però se ve lo sto inserendo in questo video perché ve lo consiglio è perché comunque è un prodotto buono però dovendo avere delle preferenze ne preferisco altre ecco ma questo comunque è un buon prodotto questo qua della censure intimo delicato questo è anche testato al nickel con attivi prebiotici naturali PH5 certificato ICEA questi sono 250 ml e contiene stati di timo, malve e rosmarino dalle proprietà rinfrescanti e addolcenti un PAO di 12 mesi vi ho già detto sì che è certificato ICEA comunque qua sotto nell'info box trovate tutti i nomi, i quantitativi e i prezzi però questo l'ho pagato 1,99€ da S lunga ha un odore molto neutro la consistenza è un gel abbastanza liquidino vi devo dire che è un detergente ideale per chi è veramente estremamente sensibile e estremamente delicata nelle zone insomma intime secondo me è un ottimo detergente ma forse è fin troppo delicato soprattutto nel periodo in cui magari avevo il ciclo una volta usato questo qui non mi sentivo pulita al 100% quindi lo utilizzavo solamente o quando mi capitava di lavarmi più di una volta oppure magari diverse volte durante l'arco della giornata oppure appunto quando non avevo il ciclo perché altrimenti non bastava ma se siete estremamente sensibili io ve lo straconsiglio questo qua è piaciuto tantissimo a Giacomo cioè è diventato il suo detergente intimo preferito un altro buono che a Giacomo piace tantissimo a me piace però ne ho provati di migliori è questo detergente intimo di S.Lunga questo è l'unico che non è certificato però comunque è a base di ingredienti di origine naturale ha un ottimo inci delicato con estate di camomilla 200 ml quindi sono 50 ml in meno di questo qui anche questo ovviamente lo trovate da S.Lunga ha un odore anche questo qua molto delicato di camomilla e costa ancora meno dell'altro perché costa mi pare 1,60 euro la consistenza come vedete è piuttosto liquida comunque noi ne abbiamo usato abbastanza per farci un'idea allora vi dico io lo trovo molto simile a quello là di Sensure ovvero estremamente delicato in alcune circostanze forse anche troppo quello che vi posso dire è che a me piacciono i detergenti intimi non effetto tipo cilligolo freddissimo assolutamente no però qualcosa che vada un attimino a purificare che mi lasci quella sensazione proprio di pulizia e di freschezza ecco questi due che vi ho mostrato sono talmente tanto delicati che quella sensazione non la lasciano quasi per niente e appunto vi dico nel periodo del ciclo io non mi sento neanche così tanto pulita li trovo estremamente simili questo qua ha un pH fisiologico comunque ve li consiglio secondo me se avete la zona molto delicata magari soffrite anche di irritazioni e quelli sono perfetti poi proseguiamo sempre sulla scia di questi qua diciamo quindi un detergente molto delicato tutti quelli che vi mostro sono delicati è questo qua di Ecos che ho provato in mini taglia ma comunque è una mini taglia da 100 ml quindi me ne sono fatta ampiamente un DEA questo è quello a pH fisiologico con stato biologico di camomilla non testa su animali certificato ECEA questo qua a prezzo pieno non lo so cioè la full size non so quanto costa ma comunque penso sui 2 euro ecco lo trovate da Tigotà anche questo ha un odore molto molto delicato ecco è totalmente finito ma aveva una consistenza estremamente liquida l'apertura è così però è inutile che vi mostro questo perché poi tanto in full size credo abbia il pump fatto come questo qui allora cosa dirvi è un detergente molto delicato delicato direi come gli altri però a differenza degli altri due questo qua mi lascia una sensazione di pulizia più profonda non so non mi soffermo tanto ragazze perché io vi voglio fare più che altro una carrellata ma non c'è tanto da dire questi detergenti si assomigliano un pochino tutti insomma mi sono piaciuti tutti sono tutti molto delicati rinfrescanti mi lasciano la zona pulita a parte i primi due che vi ho mostrato che ci tengo a separarli magari dagli altri perché mi lasciano meno soddisfatta diciamo così degli altri comunque questo qui è buono è anche facilmente reperibile perché insomma Tigotà c'è praticamente ovunque poi adesso ho aperto anche il sito online quindi anche dove non c'è lo potete reperire molto buono bene andiamo avanti invece un detergente che non so se potete non so se si reperisce sempre ragazza perché con l'idol non si capisce mai comunque questo qui della pH bio che mi piace mi è piaciuto molto devo dire questo qua non capisco non c'è scritto il pH quindi deduco che abbia un pH fisiologico 6 mesi di pao comunque l'intimo con rosmarino timo e menta delicato e 100% bio questo certificato ihab e vegan ok sono 250 ml si presenta così ha un odore molto diverso dagli altri perché qui si sente molto il rosmarino il timo ha un odore molto erboso che a me onestamente non dispiace è finito ma aveva una consistenza vedete ne è rimasto un po' un gel parecchio denso allora anche di questo qua vi ho già parlato nei prodotti finiti però insomma ve lo rimostro ottimo detergente intimo veramente questo qua ha un'ottima fama qui sul tubo costa mi pare 2,99 euro quando lo trovate da Lidl vi devo dire che a me è piaciuto molto lo trovo un ottimo gel detergente intimo tra l'altro ne basta veramente pochissimo perché ha questa consistenza molto densa quindi ne basta veramente una puntina scusate deterge molto bene la zona però mi ha lasciato un pochino perplessa soltanto il fatto che io leggendo rosmarino timo menta ecco soprattutto leggendo menta mi aspettavo qualcosa di molto più purificante di antibatterico ecco rinfrescante invece è assolutamente stradelicato infatti comunque c'è anche scritto nel senso dopo averlo utilizzato mi sento pulita ma non mi dà quella sensazione di freschezza che magari io mi aspettavo leggendo gli estratti ecco però sicuramente un ottimo detergente tra l'altro prezzo irrisorio e comunque ha un sacco di certificazioni testato dermatologicamente vabbè ve l'ho già detto poi un detergente intimo che mi è piaciuto molto questo è quello che costa di più tra quelli che vi mostro è questo qua questo mi è piaciuto veramente molto è di Omi Alaboratoire questo ha un pH 4.5 è protettivo lenitivo con antinfiammatoria naturale la calendula officinale 250 ml certificato CEA questo c'è scritto che è rinfrescante addolcente protettivo lenitivo ed è consigliato per donne in età prepubere bambine in età prepubere scusate donne in età fertile in presenza di pruriti bruciori irritazioni io non avevo insomma questi disturbi però l'ho voluto provare lo stesso comodissima la confezione così ha un profumo si sente la calendula ha un profumo di pulito veramente buono e questo qua credo di averlo pagato sui 480 470 comunque sotto i 5 euro ma più o meno 5 euro ma vi dico a parte che appunto sono 250 ml ma anche di questo ne serve una puntina mi è durato due vite ottimo questo detergente non so se è il migliore perché anche gli altri due che vi mostro dopo sono fantastici ma questo mi è piaciuto un sacco perché qui dice anche rinfrescante rinfrescante non tanto però è veramente molto addolcente molto lenitivo mi è capitato di usarlo anche appunto in presenza di irritazioni non dava assolutamente fastidio potevo usarlo anche più volte nella giornata non mi irritava e non seccava assolutamente la zona delicato ma allo stesso tempo molto efficace mi lasciava la sensazione di zona pulita ma non eccessivamente ecco sgrassata questo mi è piaciuto veramente molto si può reperire io l'ho trovato al Conad Superstore però insomma dove trovate Omia c'è anche questo c'è anche la versione all'aloe che io ho provato anni fa quando ancora esisteva solo quella ed è buona c'è anche all'argan e alla malva questo che è la calendula a me è piaciuto un sacco poi altro detergente che mi sta piacendo questi qua invece li ho in uso mi sta piacendo veramente tantissimo è il detergente intimo della linea biologica dell'INS quindi lo trovate al discount INS questo è delicato e riequilibrante pH fisiologico con estratto di camomilla non contiene schifezze anche perché è certificato ICEA questo qua ragazze sono 300 ml quindi la quantità maggiore credo voglio vedere quello dopo sì è quello che contiene più prodotto in assoluto io sono arrivata qui lo vedo in controluce sono qui ha una consistenza anche questo qua piuttosto liquida vi dico ragazzi 300 ml e io all'INS l'ho pagato ora non ricordo se 1,99 o 2,99 o una cosa nel mezzo comunque sui 2 euro ecco sui 2 euro ragazzi ottimo a parte il pump estremamente comodo così ha un profumo delizioso sa di pulito di bucato non lo so mi ricorda l'odore del latte detergente di anthos buonissimo e anche come come proprio detergente è veramente di qualità ha una consistenza abbastanza liquida quindi bisogna stare attenta a non sprecarlo un pump basta assolutamente per detergere la zona pulisce veramente bene va veramente a riequilibrare la zona sento proprio anche che è più purificata e questa cioè questo qui tra tutti quelli che vi ho mostrato è quello che mi lascia maggiormente la sensazione di freschezza anche a lungo vi dico non è niente a che vedere con il chili eccetera però ho questa sensazione di pulizia profonda ma in maniera estremamente delicata veramente veramente buono forse tra quelli che vi mostro è quello che mi sta piacendo di più anche comunque per il rapporto qualità quantità e prezzo se avete un ins ragazza dategli una possibilità perché è veramente molto buono un altro che è un sapone diciamo così e multiuso però io lo sto utilizzando anche per l'igiene intima quindi ve lo mostro è il sapone liquido alla propoli con propoli e salvia di Anthos questo qua forse è quello che si fa un attimino più faticare perire però insomma online o in alcune bioporfumerie dovreste trovarlo facilmente 250 ml PAO di 6 mesi qua non dice che pH ha dice solo che ha un pH controllato che ne consente l'uso anche per l'igiene intima e l'ho pagato 4 euro sul sito ha un profumo estremamente delicato secondo me non si sente né la salvia né la aiuto l'ho svitato né la salvia né il propoli ha proprio un odore buono insomma delicato e appunto è un normale sapone liquido che si può usare in teoria un po' per tutto come anche quelli che fa il chemil labiofficina viso corpo io ad esempio lo sto utilizzando tantissimo per la detersione del tatuaggio perché è molto delicato ma contenendo la propoli non so se si dice la propoli o il propoli qui la propoli la propoli e la salvia è anche un effetto antibatterico mi sto trovando benissimo ottimo anche per l'igiene intima tutti questi detergenti che vi ho mostrato mi sono scordata di dirvelo fanno tutti poca schiuma forse quello che fa più schiuma è ma non lo so non lo saprei forse questo qui ma neanche comunque fanno tutti veramente poca schiuma una schiuma molto morbida questo qui è molto delicato non lascia la sensazione di freschezza però lascia la zona veramente pulita e molto purificata io mi sto trovando molto bene questo l'ho provato solamente qualche volta ma vi posso già dare la mia recensione perché mi è piaciuto insomma tutte le volte che l'ho provato 4-5 volte insomma 6 volte non mi ha mai dato problemi e quindi vi straconsiglio anche questo bene ragazzi questi erano tutti i detergenti che vi vi voglio consigliare per un mio personale parere non lo so a meno che non abbiate proprio una zona estremamente delicata che certe cose non le potete usare eccetera questi due a me non fanno impazzire però vi dico sono entrambi senza profumo no questo ce l'ha il profumo questo non lo so lì in c'era sulla confezione però sono estremamente delicati io prediligo altro e tra tutti quelli che vi ho mostrato date una chance a questo sono tutti buonissimi ragazze cioè perché anche questo qua di Lidl è ottimo questo qui è fantastico però questo qua mi ha stupito ragazze perché c'è tanta quantità quindi è formato proprio famiglia pulisce molto bene rimane delicato costa una cavolata quindi insomma io ve lo consiglio spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile mi raccomando fatemi sapere delle altre categorie di cui volete i prodotti insomma a confronto io vi mando un bacio se volete consigliatemi anche altri detergenti intimi con cui voi vi state trovando bene e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao